In queste ore sono stati fatti recapitare al centro islamico di Monfalcone, alla comunità musulmana, pezzi del Corano bruciato. Presidente, non è la prima volta che ciò accade. Ormai la comunità musulmana del nostro Paese, in particolar modo a Monfalcone, è oggetto di una violenza, di una campagna rasista che è stata generata e fomentata da parte di determinate foste politiche e che ne hanno fatto anche un cavallo di battaglia per raccattare voti. Però attraverso questa campagna non soltanto vengono meno ai principi, ai valori della nostra Carta Costituzionale, in termini di libertà di culto. Il nostro Paese ormai da troppo tempo è diventato il teatro di una campagna islamofoba, razzista nei confronti di una parte della popolazione. Presidente, vado a concludere. Sono oltre 3 milioni la comunità musulmana nel nostro Paese. Oltre un milione sono cittadini e cittadini italiani. È una parte consistente, indipendentemente dall'aspetto numerico della nostra comunità. Penso che mai come oggi sia urgente un intervento da parte del Ministro dell'Interno riguardo a tale atti ignobili e racisti. Grazie.